Tutto pronto per la settima edizione di Gens Mariliani alla Corte del Duca, promosso dall'Associazione Pampolis con il patrocinio del Comune di Mariliano e della Proloco, l'evento si terrà dal 26 al 28 maggio prossimi, una tre giorni in cui Mariliano diventerà una cittadina medievale del Quattrocento. Rievocazioni storiche, mercati medievali, battaglie di fuoco al castello, scacchiere viventi e trombonieri ed ancora mostre, esibizioni, musica, infiorate e concerti. I dettagli della Kermesse culturale che animerà il centro storico marilianese sono stati svelati nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel convento dei frati minori di San Vito. Una Kermesse che possa in qualche modo coniugare ciò che è il rigore storico, filologico, artistico con il divertimento di tutta la cittadinanza. È una manifestazione che trova innanzitutto il gradimento di tante persone, dei cittadini ma anche di persone che vengono da città vicine, ma soprattutto è una manifestazione che ha il grande merito, il grande pregio di aver coinvolto tutta la città, tutta la parte buona, la parte sana della città, quella propositiva che non parla solo ma che vuole fare concretamente.